Oggi parliamo di come eliminare le macchie dentali. Prima domanda da farsi è ma perché i denti si macchiano? Prima c'è da dire che esistono due tipi di macchie, le macchie intrinseche e le macchie estrinseche. Le macchie intrinseche sono le macchie che ci portiamo generalmente già dalla nascita e sono dovute o ad un eccessivo utilizzo di fluoro o antibiotici da parte di nostra mamma durante la gravidanza o da noi nei primi anni di età. Le macchie estrinseche provengono dalla vita quotidiana, dalle nostre abitudini viziate, vedi fumo, utilizzo di tabacco o dalla nostra alimentazione, da quello che cioè giornalmente ingeriamo. Ma perché i denti nel corso della nostra vita tendono a macchiarsi sempre di più? È molto semplice perché con il passare degli anni con l'utilizzo dei denti ma soprattutto utilizzando gli spazzolini troppo duri e dei dentifrici troppo abrasivi creiamo delle vere e proprie abrasioni o fessurazioni sulla superficie del nostro smalto ed è proprio all'interno di queste fessure che si vanno ad annidare i pigmenti che noi assimiliamo con l'alimentazione o con le nostre abitudini viziate. Successivamente si avrà una parziale remineralizzazione dello smalto che non farà altro che intrappolare i pigmenti all'interno dei nostri denti. Quindi come prevenire queste iperpigmentazioni estrinseche ma soprattutto come eliminarle? La prevenzione è molto semplice dovete imparare a spazzolarvi i denti nel modo corretto ma iniziare a spazzolarli mezz'ora dopo aver mangiato, non subito. Questo perché l'acidità degli alimenti porta ad alleggerire, ad allontanare le maglie dei prismi dello smalto permettendo allo spazzolino e agli agenti sbiancanti del dentifricio di andarli in parte a rimuovere. Quindi sbagliatissimo mangiare e subito lavarsi i denti. Abbiate pazienza almeno 30 minuti. Come eliminarle se con un semplice spazzolamento le macchie non vanno via, possiamo passare ad eseguire uno sbiancamento. E anche per oggi è tutto. In attesa di vedere il video sullo sbiancamento sorridi perché il sorriso è gratis. Ciao ci vediamo nel prossimo video.